Siamo a 200 metri da Ponte Vecchio, tuttavia devo dire che la cosa più importante è che non vi sono stati danni alle persone. Io questa mattina quando sono arrivato alle 7 ho visto già sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, la zona è stata isolata, non è consentito a pedoni, a veicoli di passare. Si è provveduto immediatamente alla rimozione dei veicoli, ovviamente quelli che si potevano rimuovere. A titolo esclusivamente precauzionale abbiamo anche fatto evacuare due palazzi che sono qui davanti, ma Genio Civile, Vigili del Fuoco ci assicurano che non c'è assolutamente nessun rischio di cedimento che possa interessare le strutture edilizie e i palazzi. È chiaro che Publiacqua, la società di gestione, ha dovuto chiudere la rete idrica, anche perché lo smottamento è dovuto, e questo è appurato, ad una rottura improvvisa del principale tubo della rete idrica di questa area della città. Si è verificata ieri? No, si è verificata questa mattina. Ieri notte vi è stata una segnalazione alla quale hanno risposto Polizia Municipale e Publiacqua, ma che ha interessato un altro segmento di questa rete qui vicino. È presto per spiegare le dinamiche tecniche, ma quello che è certo è che lo smottamento è avvenuto contestualmente alla rottura di questo tubo, praticamente all'altezza della macchina che vedete alle mie spalle. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, tuttavia va ancora monitorato il sito perché ci sono spostamenti della sede viaria ed è chiaro che il terreno sotto la strada sta cedendo, continua a cedere. Non c'è nessuna causa dovuta a fattori idrogeologici naturali. Qualcuno ha parlato addirittura di riva friabile, trascimazione, qui non è trascimato nulla, anzi vedete che la spalletta dell'Arno del fiume ha retto, addirittura ha un impatto spaventoso che è quello delle migliaia e migliaia di litri d'acqua che si sono riversati già dalla mattina presto in questa voragine.